Davvero insoliti per un tiratore delle sue qualità Qui è 75-30, una hotel seragio miglia 12 Pesaro che davvero ci sta capendo ben poco Lamb riproposto sul parquet da coach Luca Banchi Si prende l'arresto e tiro Cattedratico, riesce allora a concludere Già dall'altra parte Pesaro con Doro Lamb Che si prende la tripla, la manda per sal 12 su 16, a cronometro fermo per la VL Pesaro 10 su 17, ben 7, i tiri liberi sbagliati da Reggio Emilia Grande giocata Moretti vuole andare in angolo e lo fa da Doro Lamb Spaziato molto bene il numero 20 Moretti con il cronometro, Pesaro si vuole tentare Una nuova disperata rimonta, cosa che era già riuscita Doro Lamb si alza e spazia